ciao a tutti ghiacciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di minecraftita sono nuovamente nel nether perchè uno di voi mi ha in realtà più di voi mi avete spiegato come si fa il network di portali allora nello scorso, anzi due episodi fa io l'ho escluso però andando a vedere sulla pagina della wiki di minecraft si può vedere come dice che un portale cerca solamente un tot di blocchi e poi dice ma guarda se lo metti se ti sei sbagliato ti porto a un livello standard è questo quello che è successo nello scorso episodio praticamente e per come si dice per ovviare a questo problema basta basta non finire ste robe basta basta cosa basta andare a un livello inferiore al 128 basta un qualsiasi livello che sia inferiore al 128 quindi ipoteticamente tipo l'ideale è quattro blocchi sotto o qualcosa del genere no qua sono a posto? no qua non posso scendere più di così puoi usare delle ender per quello che diventa scomodo allora speriamo che qua ci sia qualche altro blocco sappiamo che questo vada bene questo dovrebbe andar bene va bene va bene ehm ora sono a livello 128 come vedete y qui sono 125 però è troppo basso cioè troppo merda ok trovato quindi teoricamente io allora 124 qua dobbiamo andare già bene però più in basso vado meglio è allora qua per salire facciamo così abbiamo tre che è sta roba eh? I'm a bad ok qua va bene facciamolo di qua ma no scendiamo un altro po' che posso ok crea un po' di spazio voglio fare il primo portale con voi perché voglio verificare se funzioni davvero un utente mio ha perfino fatto un video in cui mostra me l'ha inviato sulla pagina facebook eeeh quindi teoricamente dovrebbe funzionare però non si sa mai quindi proviamo eeeh facciamoci no ma chi se ne frega non è il momento di pensare al design delle cose è il momento di pensare alla funzionalità delle cose ok cosa alla mano ah coordinate registriamole meno 500 anzi scriviamo direttamente meno 507 101 vediamo dove ci porta oddio dovrei comunque spawnare in una zona che ho già esplorato più o meno no no è vero sono andato 100 blocchi più avanti allora scriviamo anche le coordinate di arrivo che sono meno 4000 boia da 4 e 827 va bene no no va bene birch forest hills boh si potrei già esserci stato qui no poco probabilmente non vedo torce in giro però prima di tornare indietro e verificare cos'è cascata micr no e sta generando il mondo per quello sto la ghicchiando boia se la ghicchia però prima di verificare se funziona tutto voglio le hanno occhiata in giro o questo bioma è largo secoli proprio millenni millenni luce proprio no no qua qua già si si va meglio no però ci sono abbastanza quello di esserci già stato qui e il mio obiettivo è trovare dove sto andando io aspetta con le coordinate già mi sono scordato 4.034 di qua di qua giusto si perfuso di qua il mio obiettivo è quello di trovare le pianure ghiacciate perchè il pack dice mi attizza molto qua non c'ho un cazzo ho sentito uno scheletro ma vabbè allora se funziona mi metterò a creare tutta una serie di portali fin quanto l'ossidiana me lo consente anche a costo di rimuovere i portali e rimetterli oh funziona funge fungina ragazzi funge fungina ehm però come ho appena detto mi riprendo l'ossidiana no 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 finch'ossidiana me la tengo ah tra l'altro ora mi metterò ad abbattere l'albero perchè non ho abbastanza sapling per fare tutto altrimenti quindi mi conviene abbattere il tutto qua sono finito nel deep ocean deep ocean very deep molto deep extremely deep ho scavato un po' per cercare qualche diamante come sapete ma dai non dimmi che l'ho sconfissato ehi fratello quindi in realtà stavo anche andando in superficie poi mi sono ricordato ehi perchè non guardo in che bioma sono prima così magari mi levo i casini e sono in un deep ocean quindi potrei anche andare sopra non dovrei un kaiser di nada molto niente siamo vicino ai 6000 tra l'altro affanculo me ne torno ehm si stavo cercando dei diamanti perchè come sapete la mia scorta non è delle migliori però niente nelle vicinanze quindi ho preferito non farlo non scavare di più insomma e se prima era deep ocean ora siamo nell'ocean mi sembra mi sembra mi sembra lecito piuttosto lecito piuttosto oh alleluia sono contento perchè finalmente una cosa che non sia oceano questo è portale coordinate sono quasi 10.000 boia mi sto allontanando un po' troppo oh non è che prendi fuoco il lago di lava in superficie gg allora di qua ho visto delle montagne quindi pensavo magari andiamo a dare un'occhiata perchè sta cosa è davvero poco produttiva oddio è produttiva è più produttiva di andare a piedi naturalmente però c'è un bordello di tempo solo per prima una clip di 9 secondi tipo ci ho messo una cosa tipo 15 minuti farei tutto il casino perchè non le foglie del portale non scendevano cavalli merda come lo porto giù però poi il cavallo è figo che c'è il cavallo ma come lo porto giù poi giù per il portale intendo cioè neanche per il portale perché il portale è il minore dei problemi il problema maggiore è la scala cioè non posso farlo cadere se no mi muore però qua vedo delle montagne piuttosto giganti e dei semi vabbè i semi li buttiamo perchè non mi interessano vedo un bordello di mucche boh dato che vedevo della neve qua sopra su queste montagne pensavo anzi speravo devo dire di trovare qualcosa di interessante tipo quel biome di cui vi parlavo prima quelli la con il pack d'ice ma penso di dover utilizzare una frequenza ma cos'è sto lag ehi fratellu penso di dover utilizzare una frequenza minore eh maggiore scusate con i portali oh guarda non ne avevo abbastanza di ste robe anzi del vero no non ne avevo abbastanza stavo finendo i yoke sapling perchè non solo ci mettono un botto a cadere le piante ma ne scendono anche poche oddio poche tipo un albero ui morta cialialala cittura tipo un albero mi ha dato una cosa tipo cos'è 10 10 alberelli però solo per piantare uno nuovo ce ne vogliono 4 poi metti caso che non sempre ti escono no questi non sono dark walk o si penso di si comunque si si sono cioè 4 solo per fare l'alberello poi non ti escono sempre si dark walk peccato che non c'ho abbastanza ferro per farmi un piccone niente sto cercando di rendere questa ricerca va oh ve ne un fungo ho visto un fungo ah beh che cazzo ne ho visto uno anche qua cc no ehm a parte si sto cercando di ricavarne qualcosa da questa ricerca altrimenti sono sprecato un'ora oddio figo però non è sufficienza siamo anche piuttosto alti qua eh non so se notate tipo 80 90 come altezza però no mi sa che non c'è ciò che sto cercando anche se cioè carino gg si è venuti anche prendere il cavallo però mmm non ho una sella né niente per per attirarlo a me dovrei portarlo nel nether cercare di tenerlo fermo in qualche modo vabbè non è quello un problema lo blocco con dei blocchi lo blocco con dei blocchi ah che ridere però dopo devo fare devo fare un casino però mi sa che conviene mi sa che conviene mi sa che quello che farò beh almeno ci provo almeno ricaverò qualcosa da sta ricerca abbastanza inutile penso che sia più efficiente andare a piedi a sto punto perché così ti perdi tanti di quei biomi per la strada che è una cosa assurda oddio hanno fatto un muu sincronizzato epico ecco queste sono qui tipo da tanto e non cadono non cadono non cadono non cadono non cadono canne no ok penso sia impossibile far scendere il cavallo perché ecco per un momento ho pensato ma si basta basta allungare il tunnel allargare il tunnel ma davvero un po difficile allargare il tunnel dovrei fare tutto un casino spawnare talmente tanti alberi da tipo riempire tutta la zona di buchi e poi dovrei fare lo stesso anche tipo qui qui che sarebbe impossibile perché c'era un casino una cosa assurda qua sarebbe fattibile però non c'è modo di farlo scendere il cazzo di cavallo quindi quel cazzo che va di merda ah orbene avevo preso una buona parte di tutte le sugar canes che avevo per fare un po' di tentativi con il cosiddetto villager perfetto però si si riproducono lentamente ciao ecco decisamente troppo lentamente quindi non no no dovrei tipo mettermi diversi pomeriggi e cercare di di far uscire qualcosa ma non lo so non penso sia non penso ne valga la pena perché comunque il nuovo sistema sarà più facile poi ci sarà anche tutto il nerf all'esperienza tutte quelle cose cioè nerf potenziamento in realtà quindi secondo me non ne va la pena di trovare sto villager perfetto era una cosa carina per dire guarda io ho villager perfetto però dunno dunno comunque parlando di cavalli il cavallo che ho io che tra l'altro rimarrà senza noi probabilmente all'infinito perché boh ehm l'ho preso in una zona tipo la no tipo la in fondo o no 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 l'ho preso con un portale l'ho trasportato nel nere tipo mi ricordo oddio ma mi viene il dubbio sai cosa sai cosa se provassi a prendere una sella ho sentito del fuoco the fuck what the fuck ha preso fuoco no no devo andare a dormire non ce lo faccio basta sono fuso ditemi che l'avete sentito pure voi vabbè ehm prendo una sella tipo delle mele o cos'è tipo le carote cos'è che mangio i cavalli o carote o meli insomma quelle cose lì e una liscia e provo ad andare a cercare un altro cavallo nel bioma della clay eh sì proprio lì perchè se non sbaglio è in quelle zone che ho trovato un primo cavallo si si mi parli si mi parli si andiamo perchè voglio creare un una miriade di cavalli non so perchè come la maggior parte le cose le faccio in questa serie cioè non so perchè le faccio beh così che basta mmm no ok penso di essermi in qualche modo sbagliato non mi ricordo di aver visto cavalli qua in giro di davvero non me lo ricordavo moco oddio ma quant'è che non si fango qua tutta sta terra alida mese a plateau ma ah se qua trovassi quella cosa figa il il puzzle come si chiamava sembra interessante sarebbe più interessante se trovassi dei cosi e per cosi intendo cavalli però in qualche modo ci accontentiamo mi parli della oddio un grandissimo senso di deja vu ma mi sembra di non averlo ancora esplorato non lo so non lo so non lo so però mi ricordo che il cavallo l'ho preso ora nell'altra stagione che ho usato il portale boia che confusione che confusione che confusione sarà perché non ricordo questa è un'isola quindi sono fottuto e son fottuto si sa natale la no questa è quella colorabile vero boia boia mi prenderei un bel po ma tanta proprio c'è tipo si aspetta ne prendo giusto un po giusto un po ok non è stata un'ottima idea farlo di notte però ho preso una cosa tipo 5 stack vabbè mancava poco al quinto stack questa bianca la butto perché è stronxa cioè al buio guarda ti sembra bianca poi appena c'è un po di luce diventa rosa e vabbè cos'è l'armata dei zombie villagers no no va vai vai mona via su su fa un culo eh eh merda quando il gioco si fa duro i duri usano le enderpearl no aspetta mai dove cazzo veniva da di qua si 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 può essere può essere a me basta cercare un po di luce eccola lì boom baby buona posizione non lo so potrebbe essere pieno di creepa ciao mister creepa beh buonanotte mister creepa eh 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 ok ok posso tornare direi che non era questo non vorrei averlo trovato tipo su un'altra isola e averlo portato in acqua oddio davvero non mi ricordo e sicuro non è che io abbia tanto avuto tanti cavalli eh in minecraft ita in generale quanti ne ha avuti ne ho avuti tre due nella prima stagione e uno in qua no no e nella prima stagione ho usato il nether dovrei averlo dovrei averlo usato l'acqua qui non mi ricordo beh sarebbe molto più comodo comunque usare il il nether boh è davvero non mi ricordo no è possibile quando ci sarebbe mai passato un cavallo comunque non parliamo di questo questo episodio è andato un po' eh così non ho fatto molto molto chiacchiericcio come episodio eh però eh nel prossimo episodio eh voglio iniziare un progetto costruttivo di costruzione quindi eh per quanto riguarda sempre il il nether che ora vi faccio vedere in duogo in duogo ehm come vi dicevo mi piacerebbe molto creare un un ambiente diciamo tipo lunare stavo considerando e prima sto facendo qualche calcolo ehm di fare una cupola di vetro con dentro la vegetazione e una mini città però tipo per farla di una diciamo larghezza accettabile e per accettabile intendo meno cinquanta blocchi no? cinquanta blocchi è piccolino alla fine cinquanta blocchi son pochi un diametro di cinquanta blocchi è piccolissima la sfera venivano comunque un bordello di blocchi ma tipo tanti tipo tanti ho usato il programma online per calcolare la sfera tipo la sfera no quella era con il raggio di cinquanta quindi ehm insomma vengono comunque un botto di blocchi un bordello di blocchi quindi pensavo di creare comunque una città qua sopra nel nether ehm utilizzare molto la terra perchè la terra ehm con con il bioma del dell'inferno quando io vado a prendere con il città c'è un pezzo di terra lo piazzo qua diventa di quel verdognolo tipo il verdognolo del deserto per capirci penso sia quello una roba una roba del genere poi qui ci creare tipo un cottage di fatto in legno stone bricks immagino e praticamente creare una mini dimensione qui nel nether fatta di 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 terra anzi proprio ora che ci sto pensando mi sa che sono abbastanza curioso da andare a vedere subito di che colore sarà l'erba ciao ma friends perchè fai così tanto ah no non fa così tanto danno guarda guarda quanto oro non fa don't try disatoma io sono equipaggiato eh mi raccomando guarda ora se spawno insieme ad un pigman mi fa il culo nel portale e invece no ok ah a proposito ho creato la playlist per la seconda stagione no? ehm cazzo l'isola è cambiata un bel po' dal dal primo episodio ehm gg anyway eh come cottage pensavo dono una cosa di questo tipo ma quasi sembra con questo stile molto nordico del non questo che questo sembra una stalla però tipo la facciata più o meno di questo tipo non uguale perchè questo lo sposterei un po' più in alto magari un po' più al lato e e il tutto un po' più grande per capirci si sta facendo giorno però io voglio dormire lo stesso quindi eh ok ecco un'altra considerazione nel nether non c'è la luce del sole ok e io non so se l'erba cresce senza luce del sole oddio nell'overworld sottoterra con anche della luce artificiale cresce mi pare di per esperienza di poter dire con abbastanza certezza sta roba però qui nel nether cresce lo stesso ecco come vedete è quel tipo di erba che che ipotizzavo ora ora come io faccio cosi certamente dovrebbe espandersi si spera perchè altrimenti è un casino devo prendere tutto con il sick touch e vabbè aspetta un po' vediamo cosa succede e niente sono qui da buon cinque minuti e non non va non va ho pensato magari che sarebbe più tentata a salire o ascendere perchè sapete ci sono alcune meccaniche di trasferimento di dello stato del blocco tipo in diagonale rispetto all'accanto cioè quello che accanto però no mi sa che dovrò fare tutto manualmente e usare il piccone in sill touch ho un libro con il sill touch nel land ma lo voglio tenere per le le cesoie perchè può essere comodo avere delle delle cose come si chiama delle ragnatele perchè con le cesoie con il sill touch si possono prendere le ragnatele e ripiazzarle che è una cosa molto utile credetemi ehm quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo episodio con le le l'inizio di questo progetto penso che metterò uno di quei speed building che piacciono a molti di voi perchè e non vi annoierò con i dettagli della costruzione ma vi faccio vedere solo passaggio per passaggio la serie a spezzoni così mi manca davvero poco per il livello 30 e niente vi ricordo che se questo episodio vi è piaciuto il metodo migliore che avete per supportarmi e lasciare un mi piace e condividerlo io vi saluto ciao trututututti ciao 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 ciao